Credo che la partita a Trento non abbia bisogno di grandi presentazioni. Trento con l'acquisto di Hogg e con la contemporanea assenza di Guterres è la squadra che ha giocato la finale Scudetto o perlomeno gran parte della squadra che ha girato la finale Scudetto e si presenta con le stesse caratteristiche ovvero grandissimo agonismo, grande difesa, intensità, tanto atletismo, specialmente in casa l'idea di correre molto il campo di mettere pressione, un modo di giocare non troppo distante da quello che ha mostrato all'andata e che mostra anche nella Coppa una partita naturale, una partita difficile, su un campo difficile e ci sono tanti ingredienti affinché possa essere una bella partita mi aspetto come sempre stato con Trento, come è stato qui all'andata, una partita ripeto molto atletica, molto fisica, molto maschia e quindi sappiamo che questa sarà la base e dovremmo avere la capacità di impattare altrettanta fisicità e altrettanta durezza detto questo il nostro obiettivo è quello assolutamente di continuare a cercare degli equilibri il più possibile diciamo stabili perché con tutti questi problemi, cambiamenti, infortuni c'è necessità di dare ai giocatori dei riferimenti durante il corso della partita sperando che poi ci sia naturalmente una buona prova da parte del maggior numero possibile di giocatori al di là di tutte le cose che abbiamo detto e ridetto e che sappiamo e che mi sembra anche inutile stare a risottolineare cercheremo di andare a fare la nostra miglior partita per portare a casa il risultato sapendo che ci aspetta una partita molto difficile non a caso è stata la finale scudetto dello scorso anno